L'espulsione da parte del Consiglio Nazionale dell'ex capogruppo Reguzzoni, il Presidente Bosti ha annunciato che potrebbe anche lasciare la Lega. Che succede? C'è il rischio di... Non faccio commenti, sta gestendo Matteo Salvini la questione. Il presunto dietrofront sulle espulsioni... No, non c'è nessun dietrofront, avete interpretato male il provvedimento del... C'è un nuovo regolamento che è in vigore dal 1 gennaio 2013 che prevede una procedura diversa e più garantista rispetto a prima ed è la procedura seguita da Matteo Salvini. La richiesta fatta dal Nazionale prevede poi l'audizione da parte del Segretario Nazionale, cosa che Salvini sta facendo e poi proporrà al Comitato di Garanzia i provvedimenti sanzionatori. E' previsto dallo Statuto, non c'è nessuna retromarcia o nessuna... C'è una nuova procedura che non tutti conoscono ovviamente ma che è stata applicata, quindi tutto a posto.